benvenuto e benvenuta utilizza questa meditazione in un luogo privato un luogo personale là dove potrai evitare la distrazione di altre persone ed è ideale fare questa meditazione ogni singola mattina e mentre faremo insieme questo percorso emetteremo il suono primordiale dell'universo per manifestare creare la vita come tu la vuoi sì senza paure senza preoccupazioni ed è ideale che puoi evitare che altre persone possano ascoltarti questo suono ti aiuterà e ti guiderà nel creare la tua vita manifestando ciò che vuoi e mentre facciamo questo percorso il suono che metteremo insieme ti potrà essere d'aiuto per creare molte cose nella tua vita liberandoti dal tuo passato dalle tue vecchie idee oppure da alcuni progetti che non sono andati a buon fine e liberandoti da alcuni blocchi incatenati dai tuoi vecchi pensieri oggi è un buon momento per manifestare quello che vuoi sì puoi creare il tuo lavoro una nuova relazione una nuova prosperità un nuovo benessere ma prima di fare questo è necessario instaurare una relazione divina tra te qualcosa di più superiore che può essere l'universo dio o qualsiasi essere che puoi immaginare in questo momento nella tua vita e così possiamo aumentare la nostra energia fisica mentale superando tutte quelle dipendenze che sono inutili e mi piacerebbe che da oggi potrai abbandonare tutto il tuo passato nel comprendere che puoi permettere in questo momento di realizzare quello che è davvero il tuo interesse partendo dalle cose che ami creare che ami fare e capendo che la tua forza quella più potente che è dentro di te sono le tue sensazioni e attraverso le tue sensazioni aumenterai la tua sicurezza sapendo che puoi vivere la vita con meno tensione con meno stress e creando e sapendo che puoi vivere in pace dentro di te ogni singolo giorno in ogni posto dove tu ti trovi puoi creare questa connessione tra te e un'energia superiore mi piacerebbe che tu prendessi qualsiasi tipo di dubbio per iniziare lasciare andare questo tuo pensiero l'importante che prendi alcuni minuti per meditare attraverso questa antica saggezza che viene da lontano dove molti maestri utilizzano questa meditazione per entrare nella radice per connettersi sempre di più nella parte del nostro intuito nella parte creativa sentendo e percependo dentro di te quello che veramente potrai realizzare e faremo insieme questa meditazione e andremo a eliminare qualsiasi resistenza e ogni giorno che farai questa meditazione tutte le tue idee emergeranno in modo più chiaro in modo più semplice ora concentrati semplicemente su quello che vuoi creare in questa giornata quello che è più importante per te e attraverso i tuoi pensieri sai che puoi generare un campo infinito di opportunità quindi è un buon momento per iniziare a fare un respiro profondo e ripeti con me questo suono AOM AOM OM 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 Porta dentro di te questa vibrazione, porta dentro di te questa energia dentro i tuoi pensieri e porta questa attenzione al centro della tua fronte, dove la chiamano il terzo occhio. OM L'importante è che iniziamo a ripulire tutto quello che non ci serve e portare sempre di più l'attenzione nella parte del tuo terzo occhio, lì dove puoi liberare i tuoi pensieri, liberare i tuoi desideri, dove puoi osservare quello che può accadere durante il giorno, con emozione, con intensità, con desiderio. OM OM Senti il desiderio di quello che vuoi creare, di quello che puoi manifestare oggi. Senti il tuo corpo come sta vibrando, con quello che desideri, in questa splendida giornata. OM 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 Questo processo è utile per allineare i nostri desideri, le nostre intenzioni, per creare ciò che vogliamo, liberandoci dal dubbio e creare dentro di noi dei pensieri che possono generare, delle nuove energie, creando dentro di te dei pensieri che possono portare pace e serenità nella tua vita e lasciar passare questa energia attraverso il terzo occhio, attraverso quella parte centrale della tua testa, lì dove in questo momento sei pronto a lasciare andare e attraverso questa energia puoi liberare completamente il tuo corpo. OM 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 Tutto è tranquillo, tutto è perfetto, tutto in armonia, tutto è nel processo della creazione, in fase di progressione. OM Ricorda che i tuoi sogni possono creare la tua realtà, ricorda che quello che tu pensi si può manifestare durante questa giornata, quindi pensa a quello che vuoi creare attraverso la tua intenzione. E ora passeremo alle affermazioni per questa giornata. In questo momento, ripeti dentro di te, sono libero di decidere, sono libero e libera di agire. OM 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 Io sono il creatore della mia vita, evito di giudicare me stesso e evito di giudicare gli altri, oggi. e so che sono io il creatore della mia vita, sono io il creatore della mia giornata, quindi oggi voglio creare dentro di me armonia, amore, pace, desiderio, interesse per quello che è importante e utile per me, perché sono uno strumento di guarigione per me e per le persone che sono intorno a me. OM 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 Mi lascio alle spalle tutto quello che non mi serve, tutto quello che è inutile per me. Oggi è la mia giornata, oggi vivo la mia energia, genero pace, amore in ogni momento presente. questa è la mia giornata dove io posso creare, attraverso i miei pensieri, attraverso le mie sensazioni, manifesto ciò che desidero, ciò che voglio perché è importante per me oggi, sapere che io posso fare il passo giusto nel realizzare i miei intenti. OM 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 Mi libero dai dubbi, mi libero da tutti quei concetti antichi che sono dentro di me, mi libero e so che oggi c'è una valida ragione per creare la mia vita, perché voglio e desidero sempre di più creare la mia vita, attraverso i pensieri di qualità, attraverso l'energia, di grande, di grande aiuto per il mio benessere. A M A M A M A M Mi rendo conto che sono sempre più libero di lasciare andare tutte quelle resistenze che sono dentro i miei pensieri e osservo la mia vita in modo fluido, osservo la mia vita come fonte di creatività e so che posso creare il mio destino, so che posso creare attraverso i miei pensieri l'importante che porto dentro di me, armonia e lo faccio attraverso questa vibrazione, attraverso questo suono OM 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 Sto rafforzando la mia mente, sto rafforzando il mio DNA e posso rendere la mia vita autentica, libera da qualsiasi pregiudizio, mettendo in azione i miei pensieri attraverso quello che è giusto per me, mettendo in ascolto i miei sensi. E sto posto imb來了 per te piace, moza attraverso, attraverso, inter electro schönsendori, bloce o che modo o chee qui dà sapetono i miei pensieri attraverso, qui conoscarti, puoi rotationsi a scu Re解ita leigh emires posto, allesi Brothers Ogni giorno so che metterò un'intenzione, ogni giorno so che farò dei pensieri orientati al mio benessere interiore, ogni giorno so che mi posso collegare a un'energia superiore a me, un'energia che sia l'universo, Dio, in quell'energia dove posso generare un campo infinito di opportunità, dove molte persone saranno allineate ai miei pensieri, dal mio alla mia intenzione. Attraverso questo suono posso manifestare e adesso inizia a pensare all'oggetto del tuo desiderio, quello che vuoi realizzare in questa giornata. Permetti oggi che possa entrare nella tua vita, che possa espandersi attraverso questa meditazione facendo un bel respiro profondo. Sì, proprio così. E mentre lo fai, immagina quello che puoi creare in questa giornata, attraverso questa vibrazione che sta espandendo sempre di più, attraverso il tuo corpo, attraverso la tua mente, attraverso i tuoi pensieri. Pensa a una cosa semplice che vuoi realizzare in questa giornata ed espandila attraverso questo suono. Amm. OM 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 Io sono questo, io sono magia, io sono forza, io sono pace, io sono amore, io sono equilibrio, io sono la grazia. Quindi ti auguro che attraverso questa giornata, attraverso questo suono, attraverso questa vibrazione che sta generando un campo infinito di opportunità, anche tu, insieme a me, insieme ad altre persone, puoi creare dei pensieri orientati a quello che vuoi realizzare, mettendo in connessione il tuo intuito, il tuo cuore e i tuoi sensi. Ti auguro tutto il meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.